Continua il periodo non semplice per usare un eufemismo per lo storico esercizio odinese il caffè Contarena. È stata pubblicata in albopretorio la determina dirigenziale che sancisce la non aggiudicazione della concessione di servizi per la gestione appunto del caffè Contarena. La commissione tecnica infatti dopo aver valutato tutti i documenti di gara ha espresso il suo giudizio demandando quindi al RUP gli atti conseguenti. Al termine della valutazione da parte della commissione l'offerta presentata dall'unica concorrente ha ottenuto un punteggio insufficiente per quel che riguarda la parte tecnica conseguendo 27,80 punti su 70 a disposizione. Alla luce di tale esito il RUP ha ritenuto di non procedere all'aggiudicazione del servizio all'impresa candidata ritenendo la proposta non rispondente all'obiettivo di garantire uno standard di qualità nel servizio adeguato all'importanza e alla tradizione del locale. Al termine della scadenza del bando abbiamo ricevuto un'unica offerta ha spiegato l'assessore al patrimonio G. Arcella ma questo non significa che automaticamente risulti vincitrice della concessione di servizi. Gli uffici competenti hanno concluso il loro lavoro ora l'amministrazione si riserva successive valutazioni sull'iter da seguire per arrivare alla concessione. Parole chiare dell'assessore quindi con la concessione che verrà data solo al verificarsi di determinate caratteristiche di qualità per l'esercizio Caffè Contarena.